Il prodotto per la realizzazione di questo video è stato fornito da De Agostini. Nel 1987 la Capcom rivoluzionò il mondo dei videogiochi con il primo Street Fighter, solo due personaggi Ryu e Ken, ma è un gioco che rivoluzionò proprio la storia dei videogiochi perché si poteva combattere uno contro uno anche. Non solo contro i dieci personaggi, i dieci cattivi in giro per il mondo, ma si poteva combattere anche uno contro uno e questo rivoluzionò i videogiochi. Dopo il boom delle console si tornò addirittura in sala giochi perché i ragazzi si sfidavano tra di loro. Poi uscì anche un secondo capitolo nel 1991 che ampliò il numero dei personaggi giocabili. Fu una rivoluzione e fu il primo dei picchiaduro che creò un genere ad oggi ancora veramente veramente famoso. Ma oggi siamo qui perché la De Agostini ha creato una serie di statuine con fascicoli bellissime a tema Street Fighter con tutti i personaggi della saga. Ma andiamole a vedere nel dettaglio. Ed eccoci qui ragazzi a vedere nel dettaglio la prima uscita di questa fantastica serie che si compone di 60 uscite, quindi 60 figure con tutti i personaggi di Street Fighter 1, Street Fighter 2. Insomma veramente una collezione incredibile. Intanto ringrazio ancora De Agostini per avermi mandato il primo numero per potervelo far vedere realmente per poterlo toccare con mano. Io direi di partire immediatamente con la prima statuina della serie. Ve la faccio vedere ancora chiusa nel packaging perché secondo me è molto carino anche il fatto, vedete non c'è un cartoncino grezzo dietro ma c'è proprio un cartoncino brandizzato. Allora andiamola ad aprire, andiamola ad aprire, eccola qua, questa la buttiamo via e andiamo a vedere nel dettaglio Ryu. Eccolo qua, devo dire ragazzi che è fatta veramente, veramente bene, fatemela vedere bene. Madonna mia, tra l'altro nella sua mossa speciale, mentre fa la sua mossa speciale lancia fuori la sua aura magica, la sua aura di potenza interiore, eccolo qua, veramente devo dire che è fatto veramente bene. Guardate le venature dei piedi, i muscoli, devo dire complimenti, è fatto veramente, veramente, veramente molto bene. Bello, bello, bello. La basetta ha la sua basetta in plastica con il nome del personaggio sotto la basetta. Bello davvero ragazzi, guardate la dinamicità poi della posa con tutti i vestiti, con il laccetto dietro che svolazza, veramente, veramente fatta bene ragazzi, bella, bella davvero. Ma di che cosa si compone questa serie? Allora intanto vi faccio vedere, guardate questo lo trovate nel primo fascicolo, guardate che bello, perché vi do intanto una prima idea di alcuni personaggi. Eccoli qua, questo è Ryu del primo, dopo di che abbiamo Chun-Li, Ken e guardate come sono fatti bene, guardate i dettagli di ogni personaggio. Devo dire che tra l'altro questa collezione De Agostini l'ha realizzata in collaborazione proprio ufficialmente con Capcom. Quindi sono tutti visti e approvati da Capcom e devo dire che la qualità, il primo ce l'abbiamo qui, ma anche degli altri mi sembra veramente, veramente splendida. Saperate ragazzi che Chun-Li è stato il primo vero personaggio combattivo, eroico di videogiochi. Prima c'era o Miss Pac-Man, o c'erano le principesse da salvare, o c'erano appunto le femminucce in pericolo. Questa è stata la prima eroina dei videogiochi, veramente eroina, cioè nel senso che era un modello di ispirazione anche per le ragazze. Quindi qui avete un esempio dei fascicoli, ma guardate che spettacolo che trovate all'interno del primo numero. Ragazzi non fammi anche come farvelo vedere perché è enorme. Guardate che spettacolo il poster al centro così. Poi vi volevo far vedere, in ogni numero ci sarà un personaggio 3D e un fascicolo per sconoscere tutto quello che c'è da sapere su Street Fighter, dalle biografie alle tecniche di combattimento dei suoi incredibili personaggi. In più, ogni fascicolo troverai un grande poster centrale. Le figurine sono tutte dai 9 ai 14 cm, dipinte a mano e realizzate in PVC, ovviamente in posa dinamica e approvate dalla Capcom. Se ti abboni online, ricevi ogni invio ai personaggi 3D e i fascicoli direttamente a casa tua. Inoltre, per i veri appassionati di la saga abbiamo pensato a un'offerta speciale. Se ti abboni entro il 14 gennaio 2021, utilizzando il codice che trovate anche nell'info box, avrai la t-shirt di Street Fighter, oltre a tutti gli altri regali, il cappellino, la tazza, eccetera. Ci sono due tipi di abbonamenti. Quello standard, che vi dà i fascicoli in 3D, i personaggi fascicoli, e 4 esclusivi regali, cioè i 3 posteri, il cappello, la tazza e il raccoglitore. L'abbonamento premium, in più, vi dà i 4 personaggi ulteriori della serie Alpha. In più, se pagate con carta di credito o Paypal, riceverai il modellino di Ryu, quello XL da 16 cm. E le spedizioni gratuite su tutta la collezione. Adesso vi volevo far vedere il primo fascicolo, perché sono fatti veramente molto bene. Perché ovviamente trovate una biografia del personaggio. E' molto bello, guardate per esempio questo schema in cui vi fa vedere l'evoluzione grafica del personaggio. Guardate un po', dal primo Ryu, che le caratteristiche sono le stesse, ma ovviamente la potenza grafica delle console è cambiata enormemente. Poi avete tutte le mosse, le strategie, la storia di come combatte Ryu. Insomma, vi spiega veramente approfonditamente tutto il personaggio. Ma non finisce qui, perché nel fascicolo trovate il fantastico poster centrale del personaggio di questa uscita. Ovviamente questa uscita è Ryu, e trovate il poster di Ryu. E poi abbiamo i primi lottatori. Ovviamente Street Fighter c'erano stati già degli esempi di giochi di lotta, ma erano box, erano molto rudimentali. Tutta l'esperienza delle altre case, anche nel 76 la siga tirò fuori un gioco di pugilato, ma l'esperienza di tutti quelli che hanno provato a fare dei giochi di lotta, confluì tutta nel primo Street Fighter dell'87, creando un gioco che diventò un'epoca. Guardate per esempio che carina anche l'evoluzione del logo della Capcom, dall'inizio ai giorni nostri, e ci sono anche dei cenni nel primo fascicolo sulla storia della Capcom. La cosa molto molto bella è che nelle sale giochi c'era questo gioco che riportò, ripeto, i ragazzi nelle sale giochi, soprattutto in Giappone, mentre a casa la gente aveva delle console in soli 8 bit. E questo ragazzi non posso che... 8 bit ragazzi, gioco in casa. Quindi ragazzi vi faccio rivedere al volo un attimino la figure, perché secondo me è veramente, veramente fatta bene per dettagli, e poi vi posso dire che io la sto toccando, ce l'ho in mano, è proprio solida, cioè non è in plastica leggera, è veramente, veramente splendida. Non so che cosa ne pensiate voi, ma io la trovo fantastica. Eccola qua. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti. Nell'info box trovate tutti i link di Di Agostini, e trovate anche il codice promozionale per approfittare dell'offerta. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!